Grave incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 17.30, a lungo via Roma ad Albosaggia. Una coppia, moglie e marito, viaggiava a bordo di una Jeep Land Rover sulla strada che conduce ai Campelli, in località Cadibus Cash, quando, per cause al vaglio dei carabinieri di Sondrio, il fuoristrada sarebbe uscito dalla sede stradale colpendo un albero. Un impatto violento, la peggio sembra essere toccata alla donna, rimasta incastrata nell'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, prima con una campagnola e poi con l'autogru, per il recupero del veicolo. A loro il compito di liberare la donna dalle lamiere del fuoristrada e affidarla alle cure del personale sanitario che l'ha trasportata all'ospedale di Sondrio, dove ora si trova ricoverata per accertamenti. Lievi lesioni invece per il marito che ha lanciato l'allarme chiamando i soccorsi. Intanto e in contemporanea, i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Sondalo per un altro incidente stradale. Un'auto all'imbocco della galleria di Mondadizza ha colpito il guardrail, soccorso l'automobilista che fortunatamente ha riportato solo ferite lievi.